Oggi parliamo di videosorveglianza per questa BMW, il cliente si rivolta a noi per fare videosorveglianza, parliamo di un prodotto Thinkware, in questo caso il cliente ha scelto funzione videosorveglianza anteriore e posteriore. Ovviamente possiamo ampliarla anche con 4 telecamere, oltre che anteriore e posteriore, anche lato destro e sinistro. Abbiamo già pubblicato vari video, ma oggi parliamo di questa configurazione. Anteriore e posteriore, che cosa vuol dire? Il cliente avrà diritto a una videosorveglianza 24 ore su 24, fino a un massimo di 72 ore. Quindi nel momento in cui la macchina è sempre in moto, registra 24 ore su 24 di continuo. Nel momento in cui il cliente parcheggia la macchina, la spenge e l'abbandona, avrà una registrazione 24 ore su 24 fino a un massimo di 72 ore. Poi che cosa potrà fare? Tramite l'app dello smartphone potrà gestire tutti i filmati e le immagini che matura. Quindi nel momento in cui gli arriverà una multa o un caso di incidente, potrà accedere all'app e scaricare tutte le immagini che gli interessano. Non è finita qui, anche contemporaneamente potrà visualizzare la macchina su Google Maps, quindi avrà anche una sorta di localizzazione real time. A fine lavoro faremo il video dimostrativo. Vi ringrazio. Grazie. Grazie.